L'Istituto Autonomo Case Popolari fatica a difendere i propri immobili dalle occupazioni abusive ed ecco che i condomini di una palazzina IACP del centro di Messina hanno deciso di pagare un istituto di vigilanza privato per evitare nuove intrusioni nelle botteghe del piano terra. Accade l'isolato 91 di via Aurelio Saffi e una delle conferme del disordine e del disagio sociale che si vivono a Messina. La risposta dello IACP alla nuova ondata di occupazioni abusive è quella di murare alcuni ingressi, ma non basta perché il fenomeno del prendere possesso degli immobili non assegnati riguarda molte zone di Messina. Il risanamento appare così lontano da ogni punto di vista. Istituzioni lente e palazzine incompiute lasciate marcire come quelle del rione San Giovannello sono elementi che acquiscono l'emergenza sociale. C'è poi la mentalità di alcuni messinesi, in qualche caso anche senza particolari bisogni, sempre pronti ad invadere gli immobili non assegnati. Il commissario IACP, venerandolo Conti, conosce bene il problema ed ha dichiarato che verranno adottati tutti i provvedimenti di legge per far rispettare le regole.